Ciao da Absim! Casemiro al Manchester United è qualcosa di clamoroso per un sacco di motivi. Intanto per il prezzo e il trasferimento in sé, Casemiro, nessuno di noi pensava probabilmente che se ne sia ribiantato adesso, dal Real Madrid rompendo quel trio fantastico con Kroos e Modric. Ma anche per ragionare sulle operazioni di mercato del Real e impallidire e provare imbarazzo perché davvero il Real, pur con tutti i soldi che muove, siamo d'accordo, è riuscito e sta riuscendo nel cambio generazionale anche incassando, anche facendo plus valenze e rafforzandosi o comunque mantenendo un livello di qualità esagerato che porta tra l'altro la squadra a continuare a macinare trofei. e forse ancora vinceranno anche senza Casemiro in questa prossima stagione, vedremo. Intanto si rompe il trio e Casemiro ha già salutato, è già stato salutato e sarà prestissimo, ma ormai è praticamente fatta, un nuovo giocatore del Manchester United. Manchester United che come sapete è in crisi e infatti i dibattiti oltre manica andavano nel senso della necessità per Tenag di un centrocampista difensivo, uno che fosse in grado anche di reggere determinati ritmi di pressing da parte dell'allenatore che si è appena insediato sulla panchina dei Red Devils. E quindi poi dobbiamo parlare di Rapio, perché dobbiamo parlare di Rapio, però appunto parliamo di Casemiro che intanto è il più giovane del trio fantastico, del trio meraviglioso del centrocampo del Real, essendo nato il 23 febbraio 1992, quindi è appena trentenne, con Modric che ne ha 35 e Cross che invece è nato il 4 gennaio 1990 e era al Real Madrid, Casemiro, dal 2013 quando fu preso dal Sao Paulo, prima in prestito, poi nuovamente in prestito, comunque complessivamente il trasferimento costò 14 milioni all'epoca, cioè meno di dieci anni fa, comunque al Real Madrid. E adesso l'hanno rivenduto al Manchester United, quindi con un ricambio generazionale a fine carriera, quasi a fine carriera, Casemiro può ancora fare 5-6 anni ad altissimi livelli, ma ha 30 anni, una plusvalenza pazzesca, un incasso pazzesco, 60 milioni di sterline, che al cambio con l'euro ad oggi fanno quasi 71, con i 10 milioni di bonus si arriva a 82 e mezzo. E Casemiro percepirà uno stipendio pare di 18 milioni di sterline all'anno, diventando il quarto o quinto giocatore più pagato dei Red Devils, con Ronaldo in testa a 25 milioni, che in euro fanno 21 milioni. 25 milioni di sterline Ronaldo, 18 Casemiro, 21 al cambio. Ma non è la prima volta che il Real fa questo tipo di operazioni, me ne sono appuntate alcune. Poi andiamo a ragionare sul Rabiot e quindi impallidiamo di fronte alla capacità di gestione, la capacità manageriale, ma soprattutto di approntare e mandare avanti un progetto sportivo del Real Madrid. Perché intanto è vero che Casemiro va via, ma i sostituti ce li hanno già. E Ancelotti l'ha detto, non c'è bisogno di comprarne un altro. Hanno appena preso Chouameni per 80 milioni. E mi direte, è preso Chouameni per 80 milioni, quindi hai già bruciato preventivamente l'incasso per Casemiro. Non è costato poco Chouameni. Sono d'accordo, ma te lo puoi permettere soprattutto perché riesci a fare una cessione di questo tipo con un giocatore che era stanco magari di restare, voleva una nuova sfida, come ha rivelato Ancelotti, ma insomma non si è andato a svenderlo. Non è avuto neanche difficoltà a venderlo. E poi avevano già preso l'anno scorso Kamavinga dal Rennes per soli, 31 milioni, perché parliamo di un centrocampista fortissimo. Ma hanno anche fatto altre operazioni pazzesche. Theo Hernandez, comprato a 24, rivenduto un paio d'anni dopo a 21. Possiamo discuterne di questo, ma non ne avevano sostanzialmente bisogno. Sebaios, che adesso è tornato ad essere integrato nel gruppo, pagato 16 milioni dopo un paio di anni di prestito. Hakimi, preso praticamente a zero e rivenduto a 43 milioni. Poi l'Inter l'ha rivenduto, ma ecco, anche il Real forse ne avrebbe avuto bisogno, forse. Ma sono giocatori che, vedi, li crescono, sono talmente forti che riescono anche a fare degli incassi pazzeschi sui giocatori altrettanto forti che non gli servono particolarmente. Ronaldo l'avevano pagato a 94, l'hanno rivenduto a 117. E noi siamo stati quelli in grado, come Juve, di fare minus valenza su Ronaldo. Quindi, cambio generazionale, 70 milioni Casemiro, 117 Ronaldo. Poi dobbiamo metterci Varane a 40 milioni. Ma non solo. Ecco, nel frattempo hanno preso Vinicius a 45, che non è una cifra folle per il valore del giocatore. Courtois, che gli ha fatto vincere praticamente da solo alcune partite e anche qualche trofeo, 35 milioni. Odrio Sola, probabilmente è stato un acquisto fallimentare, 32 milioni. Adesso bisognerà vedere se partirà, probabilmente non resta in questa stagione dopo qualche prestito. Mariano Diaz, 21 milioni, nulla di straordinario. Brian Diaz, 17 milioni, sarà rivenduto quando il Milan lo riscatterà per 22 milioni. Hazard, 115, è stato un Hazard, indubbiamente. Ci sono anche operazioni sbagliate. Jovic, 63, praticamente è andato via a zero adesso alla Fiorentina. Però poi Militao, per sostituire anche Ramos, preso a 27 milioni nel 2005 e è andato via a zero. Militao, 50 milioni. Mendy, 48, Rodrigo, 45. Rainier, 30, da capire il suo impiego. Poi hanno preso però Rudiger e Alaba a zero. Varane, nel 2011, a 11 milioni, rivenduto proprio allo United a 40. Odegaard, preso a 3, rivenduto all'Arsenal a 35. E poi hanno accompagnato in uscita, alla fine della carriera, Bale, Isco e Marcelo a zero euro. Quindi la capacità, ripeto, del Real Madrid è indiscutibile. Fa impallidire. Ma dobbiamo cercare di capire com'è possibile lato Manchester United, che un giorno tratti per Rabiot e letteralmente due giorni dopo che è saltata la trattativa vai a prendere Casemiro. Due giorni dopo, tre giorni dopo. Cioè questa secondo me è la cosa clamorosa. Questo è il dato che deve farci pensare male. Non datemi del complottista, cerco di fare dei ragionamenti, potrei sbagliare completamente, però veramente sto cercando di capire come sia stato possibile quello che è successo tra trattare Rabiot, mollare Rabiot e ritrovarsi Casemiro già alla porta di casa. Davvero faccio fatica a capire, allora ho provato a darmi una spiegazione. E ragioniamoci insieme. Intanto le cifre. Ripeto, se Atenac serviva un centrocampista difensivo, Rabiot poteva anche essere un target. Ma se ti siedi al tavolo dopo che hai trovato l'accordo con la Juventus per circa 20 milioni per il cartellino e proponi circa 8 milioni al calciatore, ma lui ne vuole circa 10, e parliamo di euro probabilmente, con la madre agente che ne vuole 10 solo per sé come bonus alla firma, come commissioni, ed è un quadriennale, e ti tiri indietro a queste condizioni. Cioè dici, no, è troppo, non vogliamo spendere tutti questi soldi per Rabiot. Io capisco perfettamente la differenza tra Rabiot e Casemiro, chi più di me, chi più di noi tifosi della Juventus. Ma non è possibile che cerchi Rabiot, vuoi Rabiot, se davvero c'è stata questa volontà, e poi la trattativa salta per un paio di milioni di differenza, ma facciamo pure 5, quello che sia, e poi vai a prendere Casemiro a 82 e mezzo, compresi i bonus, e gliene dai 21 all'anno di euro. Non ha senso, capite che non ha senso, soprattutto le tempistiche. Come fai a fare una trattativa per Casemiro con queste cifre in due giorni? Ma chi ci crede? È chiaro che Casemiro ce l'avevano in tasca da prima, azzardo a dire, credo che sia probabile. Casemiro era un giocatore del Manchester United da tempo, la trattativa è andata avanti sotto traccia, mentre ci raccontavano di questa trattativa per Rabiot. Che è falsa? Può essere. Può essere che non ci sia stato nulla di vero, che sia stata una montatura. Rischio a dire questo, ma è un ragionamento, non ne ho prova, non ne ho idea, però davvero faccio fatica innanzitutto a capire, ho sempre fatto fatica a capire, come potesse Rabiot essere un centrocampista per Tenag, come potesse Rabiot essere un target del Manchester United che è in queste condizioni. Che cosa avrebbe cambiato Rabiot al Manchester United? Forse avrebbe solo peggiorato le cose. È chiaro che invece Casemiro le migliora, detto che non è mai sufficiente un giocatore per cambiare le cose, però migliora una situazione in questo momento drammatica, Casemiro dovrà giocare senza cross e Modric e sarà da valutare per vedere, magari non vale più quei soldi, non sarà più forte come prima, ma ho pochi dubbi in realtà, perché è comunque un centrocampista fortissimo, al di là dei compagni, quindi credo che possa fare grandi cose, ma, dicevo, a parte l'incomprensibile necessità di Rabiot da parte del Manchester United, se stai trattando Rabiot poi non riesci a prendere, se riesci a prendere Casemiro dopo due giorni, non è possibile che stavi veramente trattando Rabiot. E ripeto, la trattativa per Rabiot è saltata e in due o tre giorni hanno preso Casemiro. Allora, che cosa significa montatura? Chi ci ha guadagnato e in che modo? Dal mio punto di vista, noi abbiamo visto chiaramente il direttore sportivo del Manchester United arrivare a Torino. Ecco, quello magari l'elemento che ti fa pensare era tutto vero, il Manchester United stava trattando con Rabiot. E noi ne abbiamo lette di cose, cioè, i giornalisti ci hanno sicuramente in buona fede raccontato tutti i dettagli, le cifre, gli incontri, ma nell'ottica di una montatura, qual era l'obiettivo? L'obiettivo era di farsi un favore reciproco, Juventus e Manchester United. Nel senso che la Juventus aveva bisogno di piazzare Rabiot sul mercato in maniera credibile, certificandone il valore della serie. Abbiamo fatto una trattativa con il Manchester United che ci ha riconosciuto il prezzo di 20 milioni. Per il Manchester United il Rabiot vale 20 milioni. Chi siete voi altri per dire che non è vero? In questo momento Rabiot ha un'etichetta addosso, ha un'etichetta di prezzo che reca la scritta 20 milioni, certificati, tra virgolette, dal Manchester United. Poi la trattativa è saltata, si è arenata per questioni di soldi, ma intanto che cosa è successo? È successo, quindi, la Juve ha avuto questo vantaggio, che il Rabiot in questo momento è sul mercato con un prezzo certificato per chiunque lo volesse. Poi se il Rabiot, la Juve, non lo riesce a vendere, non ci perde nulla, perché non avrebbe venduto lo stesso senza questa trattativa con il Manchester United. Anzi, meno che mai. Almeno così c'è la speranza di riuscire a venderlo e ha delle cifre valide e per lo stesso Rabiot c'è una certificazione di prezzo. Ha detto, io valgo 8 milioni, 10 milioni, il Manchester United non gliele ha riconosciuti, però si parte da una base, si parte da un messaggio chiaro a tutto quanto il resto del mercato. Quindi questo è il vantaggio per la Juventus, questo è il vantaggio per Rabiot anche di mettersi in mostra, di mettersi in luce, si è parlato di lui in Italia e all'estero, mentre il vantaggio per il Manchester United, oltre a non averci rimesso nulla nel trattare per Rabiot, quindi è stato qualche cosa di gratis, di gratuito, è stato il vantaggio quello di avere con i tifosi un rapporto migliorativo, perché i tifosi sono passati dalla protesta veemente, perché stavano per vedere Rabiot al Manchester United da quelle cifre, all'esaltazione incontenibile perché hanno preso Casemiro. Certo, c'è anche chi non si è fatto prendere in giro, continuo a prendere corpo l'hashtag Glazers out, quindi ci sono i tifosi del Manchester United come i noi Juventini Agnelli out, ex or out, però intanto l'esaltazione per Casemiro è davvero incontenibile e parte da una situazione invece di protesta e di disappunto per cui da zero a mille, da zero a mille con una fidelizzazione o un consenso ritrovato verso i tifosi da parte della proprietà e della dirigenza del Manchester United senza uguali, senza precedenti. Questo è quello che penso, ripeto, magari vi sembreranno cose assurde, ma non credo che siano meno assurde di quello che abbiamo visto, letto e sentito sul Rabiot al Manchester United e adesso questa situazione che invece porta Casemiro ai Red Devils per cifre decisamente superiori. Ma lasciatemi fare anche un piccolo passaggio su Cesare Casadei al Chelsea e così completiamo il giro sul discorso delle cessioni, progetto sportivo, capacità di vendere e valorizzazione dei giocatori. Cesare Casadei al Chelsea, giocatore da zero presenza in Serie A per 15 milioni di euro più 5 di bonus, è una notizia clamorosa e parlandone dall'esterno rispetto alla società Inter, c'è da dire che sicuramente l'Inter ha fatto un'operazione validissima, ma dall'altra parte è un'operazione triste, perché parliamo di un giocatore del 2003 gennaio, 10 gennaio 2003, quindi 19enne, che era di ampia prospettiva e quindi è stato un sacrificio giovane da parte dell'Inter per incassare soldi freschi che servono. Ed infatti poi apprendiamo contemporaneamente, o pochi giorni dopo questa cessione, che Scrimiard dovrebbe restare al 100%, quanto si apprende, perché il meeting tra la dirigenza e la proprietà ha avuto esito della comprensione reciproca di non procedere ad altre cessioni, perché la Rosa deve rimanere in questo stato e quindi Casadei si è reso un sacrificio necessario per i conti. Certo, però va detto che l'Inter non perde questo giocatore straordinario, devo dire la verità. vedendo un po' le sue caratteristiche, stiamo parlando di un centrocampista valido, probabilmente una mezzala di costruzione, che ha un buon piede, una buona visione di gioco, una buona visione di gioco, quindi bravo nella regia, bravo nel proporsi in area, bravo magari nell'ultimo passaggio, però difetta clamorosamente nel recupero del pallone, difetta a volte anche nel controllo della palla, difetta parecchio nei lanci lunghi, mentre devo dire che difende abbastanza bene nella propria area di rigore. Questo è quello che ho potuto vedere su Cesare Casadei, quindi è un centrocampista su cui si deve lavorare, ma non stiamo parlando di potenzialmente uno dei top europei ed infatti il Chelsea l'ha pagato poco, cioè comunque 15 milioni sono tanti per quello che ha fatto vedere, ma nell'ottica del Chelsea, con un sacco di soldi e dove appunto, ecco, livello Real Madrid, i Camavinga li paghi relativamente poco, ma 31 ed è Camavinga, 15-20 milioni non è una cifra esorbitante possiamo dire per Casadei, è tanto ed è una cifra validissima lato Inter, ma lato Chelsea non hanno sperperato, hanno investito una cifra valida che potranno tranquillamente recuperare se anche il giocatore non dovesse dimostrare. Intanto gli hanno fatto un contratto da sei anni per sei stagioni per appunto il centrocampista che era sempre stato all'Inter, quindi plus Valenza Pulita e aveva accumulato 105 presenze con 40 gol e 8 assist nella primavera dell'Inter tra Under-17 in realtà e campionato primavera 1 con anche un affaccio in UEFA Youth League mentre nelle nazionali giovanili italiane aveva accumulato o ha accumulato fin qui Casadei 24 presenze con 6 gol. Ripeto, non mi fa impazzire, per esempio ritengo che Miretti che è quasi coetaneo agosto 2003 invece che gennaio sia decisamente più forte e allora da questo punto di vista dobbiamo dire che l'Inter ha fatto quello che doveva fare per i conti il giocatore era in questo senso sacrificabile perché poteva migliorare ma non credo che fosse qualcosa di straordinario tornando al Real Madrid attraverso la Juventus ecco il Real Madrid questo tipo di operazioni magari non le fa non va a svendere o vendere per disperazione dei giovani li comprano li sanno comprare li possono comprare e li sanno valorizzare tant'è che poi giovani o non giovani quando arrivano poi ad un'età che non sono più validi ecco guardate riescono anche ad incassare un bel po' di soldi la Juventus nel mezzo non ha problemi di liquidità non ha problemi di aggiustare i conti quindi non ha la necessità la frenesia di andare a vendere determinati giocatori però in questo momento io come Juventino rido ben poco che l'Inter ha dovuto vendere Cassadella al Chelsea magari incassando più del dovuto secondo qualcuno perché sono spaventato dalla prospettiva dei Miretti Rovella Fagioli e anche altri che sono ancora in Under 23 o in primavera o in prima squadra come Sule perché non so la Juventus che cosa ne farà e in questo momento il problema è proprio lì che mentre il Real Madrid riesce a valorizzare ad acquistare ma anche valorizzare e poi rivendere la Juventus riesce solo ad acquistare la Juventus riesce ad acquistare non riesce a valorizzare e non riesce a vendere soprattutto direi non riesce a vendere sulla valorizzazione qualcosina magari si è anche fatto ma poco però sul vendere come potete vedere siamo proprio al palo quindi serve innescare un meccanismo diverso guardare all'Inter che svende Cassadei o lo vende a seconda dei punti di vista ad una cifra troppo alta per il valore che ha dimostrato è tempo perso è inutile che come i Juventini diciamo però guarda l'Inter guardiamo noi guardiamo noi e guardiamo il Real Madrid che è la stella polare che è l'obiettivo il modello da seguire non l'unico c'è anche il modello Bayern ecco magari il modello United sarebbe quello da non seguire sarebbe quello da non seguire però intanto il Manchester United almeno i tanti soldi li spende per giocatori forti mentre la Juve i tanti soldi non li spende sempre per giocatori forti cioè se Casemiro ha 30 anni lo paghi 70 milioni non lo stai pagando troppo visto che Locatelli ti è costato 40 per capirci no? ecco che è anche più per esempio di Camavinga e quindi la speranza è che si inneschi un meccanismo diverso un circolo virtuoso alla Juventus che però è veramente difficile da innescare e lontano da vedere e da costruire grazie per la vostra attenzione ditemi nei commenti come la pensate su Casemiro allo United il mercato e la gestione del Real Madrid il caso Rabiot il caso Casadei e in ogni caso se il video vi è piaciuto mettete like qui sotto iscrivetevi al canale cogliete questa occasione per farlo e per attivare la campanella delle notifiche se ancora non lo avete fatto per non perdere i miei prossimi video e cogliete questa occasione anche per entrare nella mia community abbonandovi al canale a partire da solo i 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi tra cui la partecipazione esclusiva alla chat live dei miei post partita della Juventus per commentarli insieme l'accesso full sbloccando tutte le chat sul mio server Discord e la programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti grazie a tutti